Ciao amici di Pianeta Mountain Bike, siamo qua a Trento, la sede della provincia, per la presentazione della Coppa del Mondo di Mountain Bike da 14 a 16 giugno 2024. Anno olimpico è importante, magari qualcuno avrà ancora da giocarsi le sue carte per il posto olimpiadi. Il percorso di quest'anno, l'XC, sarà un po' modificato. La parte in pianura, quella che va verso il tonale, diciamo, verrà veramente accorciata e quindi si sarà veramente poca pianura e verrà inserita una nuova salita in single track che riporta all'ultima discesa dell'anno scorso, anche quella modificata. Non ci sarà più un rogarne una volta, ma verrà fatta tutta una parte nuova, una sezione che porterà all'arrivo. Per quanto riguarda invece la prima parte, quella naturale nel bosco, verranno apportate poche modifiche, però tutto sommato la caratteristica rimarrà quella di tutti gli anni, quindi naturale, tecnico e impegnativo. e la discesa centrale, quella che riporterà un fianco all'arrivo per fare l'ultima parte, quella nuova, e verrà affrontata tutta nel full cross. Verranno chiusi i salti pro, però verrà fatto tutto nel suo completamento nel full cross. Quindi la gara, se non era dura, diventerà ancora più dura perché di fatto quello che è stato levato è tutto il pezzo in pianura sia andata da tornare all'arrivo. Quindi sarà una cosa veramente, veramente tecnica e soprattutto più bella da vedere perché il percorso di fatto è 500 metri più corto e quindi diventa più visibile e verranno fatti sicuramente in giro in più.